Trono insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d'olivo. Ambrogio? Signora? Avverto un leggero langurino. Ci fermiamo per prendere qualcosa? Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono. Capisco, signora. Dovremmo tenere in auto qualcuno di qui. Quei Ferrero Rocher. Mi ero permesso di pensarci, signora. Bravo, Ambrogio. Pensi proprio a tutto. Ferrero Rocher, soddisfa la voglia di buono. Quando è grosso così, quando è spesso così, è un piacere molto buono. Ciocco Blocco è così, grande e grosso così, è davvero unico. Ciocco Blocco ne sei, tanto gusto per tanti, tanti pezzi fantastici. Ciocco Blocco, questo è. Antica gelateria del corso. Il piacere del gelato, quello buono. Il tartufo, per esempio, con quel suo velo di purissimo cacao olandese. Morbido tartufo, che ha il gusto della cioccolata più fine e il sapore della vera crema di latte. Antica gelateria del corso fa tanti gelati tutti buoni. Antica gelateria del corso. Una tradizione di qualità. Facciamo una sorpresa alla mamma? Che ne dite ragazzi? Sì sì nonno, dai, consumiamo noi. Ma ci sei mai stato nella Valle degli Orti? Certo, è lì che vengono scelte le patate più buone, i piselli più teneri, i borlotti più belli per preparare un minestrone buono. Com'è questo? Allora si mangia. Calma, dobbiamo aspettare. Mamma! Ciao! Che profumino! Minestrone della Valle degli Orti. L'amore per la terra dà solo buoni frutti. Lavoro, pausa, gioco che fai! Mago G, Mago G E adesso ci sono anche i crackers! Ma i Mago G! G come Galbusera, G come Galbusera. Frumens, i crackers di Galbusera. Croccanti! Con gusto! Croccanti con gusto! Ehi, raccogli i Mago Punti e scegli o la blusa felpata o la biscottiera in ceramica. Galbusera, il Mago della Bontà. Stanno attaccando le piccole balene! Sventi, datemi gara! Ora li avvaglieremo! Prendete, amici! E per te, Zun! Bravissimo! Grazie, Galac! Così buono, così bianco! Girella Motta presenta... E per merenda... Girelle! Adesso ruberò le girelle a quei mozziosi! Jack! Comandi! A quelli ci penso io! Allacciare le cinture! Decollo! Tra un minuto saremo sull'obiettivo! Impicchiata! Perturbazione in vista! La morale è sempre quella, fai merenda con Girella! Girella Motta, fantastica! Al cacao e ricoperta! Ehi, è spuntato qualcosa di nuovo nel formaggio Qualcosa di un goloso mai visto È fruttolo, il nuovo formaggio alla fragola È spuntato un nuovo fruttolo Di frutta e formaggio Locatelli fa le cose per bene Storia di Fonzis, storia di amici Yonkers, quel gusto western che porta lontano Yonkers, quel gusto western che porta lontano Yonkers, i nuovi croccantini al formaggio Dalla Evercrisp Chips Pie, patatine fragranti, gustose, dorate Chips Pie, nelle nuove confezioni serie Oro Chips Pie, una bontà da prendere al volo Gioppini rendono croccante il piacere del pane Croccante la prima colazione A merenda è una splendida occasione Croccante, divertente, spiritoso Qualunque pranzo diventa più gustoso E i veri gioppini hanno le punte all'insù o all'ingiù Riz, tolante Calma ragazzi, un po' di rispetto L'unico Rizchio è rimanere a senso Cracker Riz nella nuova confezione salva freschetta Riz Saiba, fame di allegria C'è un solo cracker che riconosci tra mille Che cagliar del pacco nuovo È Premium Saiba L'unico che ha 23 ore di lievitazione naturale Lievitation L'unico protetto dal pacco corazzato Per darti sempre il massimo della freschezza E oggi Premium Saiba Ti offre 10 porzioni nel nuovo pacco corazzato da mezzo chilo Mezzo chilo A me i salumi levoni fanno perdere la te... Ne metto un'altra fetta Ecco Dammi qua No, è mio! È mio! Oh, che sogno! Oh, levoni! Oh, che spavento! Il salame! Un'altra fetta! Una fetta! Una fetta! Non guardatevi le fette! Non riusciamo mai stare un attimo a sole Andate via! Ciao Ti telefono io Levoni fanno bene i salumi Che sogno! Come ti chiami? Bubi Per essere credibili il nome è importante Per questo taglio fresco Citerio non è solo fresco come appena tagliato Ma è Citerio Citerio Il nome fa la differenza Bubi Mamma, tra quanto è pronto? C'è qui una panatina per te Due Non ti immagini che buona te è Te? Dovaiati le impanate perché? Quattro Il prosciutto Lo sei il meglio per... Quattro o cinque minuti Solo cinque vedrai Delle panatine ti innamorerai Il segreto in fondo è tutto qui Il prosciutto è così O così Panatine rovagnati Le ho fatte Le ho firmate Buonasera amiche mie In questo momento si parla molto di carni alternative Ed io sono contenta di avere l'opportunità di trattare un argomento così importante Prendiamo il tachino aia per esempio Il vitello a due zampe Guardate quante possibilità vi offre Ossibuchi Fesa Sottocoscia Ali Rotolo Fusi Fegati Spezzatino Se poi il tachino ve lo taglia il macellaio State attenti che ci sia questo marchio che garantisce la qualità aia Ma direte voi come? Tutte qua le carni alternative No? Spedite una cartolina postale a Dave Ninki presso aia Verona E riceverete in omaggio gratis un libretto come questo Con tante ricette gustose e facili di tutte le carni aia Che sono tante Ed ecco una tavola di piatti buoni e sani che facilmente potete preparare Aia Carni di casa nostra Sane italiane Sane italiane Sane italiane Penne Barilla Danno più sapore Alle gioie di ogni giorno Dove c'è Barilla C'è casa Le banane sono gialle con una macchia blu Cichita la banana dieci e lode Orzoro è buono con tutti i bambini Orzoro è buono con tutti i bambini perché è naturale, genuino e li aiuta a crescere sani garantisce Nestlé Elac Elac Ma Elac è la parola magica che trasforma il latte in budino Elac è l'antico segreto Ed ecco che i nove gusti magici di Elac sono il tuo potere E ai tuoi ordini Elac Budino Elac Creme da favola Una prestazione sportiva è fatta di allenamento, tempismo, concentrazione e forza Ovo Maltina dà forza Solo Ovo Maltina è ricca di malto e di latte, uova e cacao Per fare il pieno di energie con gusto ogni mattina Salve Ma è cagnato Ora sì che siete pronti per battermi Ovo Maltina dà forza Ovo Maltina dà forza Grande momento Sei pronto a scappare C'è latte e sole con te Latte sole Fai tutto te stesso E fai di ogni giorno Un grande giorno per te Latte sole Sole, aziende agricole Direttamente dalla natura Van Houten ha inventato il cacao Che menzione Che menzione Van Houten ha inventato il cacao Poi è nato Block Cioccolato di qualità superiore Svizzero? No Vuoi? Questa è Svizzero? No Novi Chi ha detto che il buon cioccolato è solo Svizzero? Novi Cioccolato per passione dal 1903 Da sempre Milka Il famoso cioccolato al latte della Souchard Contiene in ogni tavoletta Un'intera ciotola di latte Garanzia di alimento sano e genuino Milka Quando il latte diventa cioccolato L'aio Potenza formidabile Ritrovate questa forza selvaggia In una parra al cioccolato croccante e morbida Divoratela Lion Una barra per ruggire di piacere Siamo qui per presentare Una grande novità Ecco il super cioccolato di M&M's M&M's Siamo i fans E' la star del cioccolato Intascabile formato M&M's M&M's con o senza noccioline Si scioglie in bocca Non in mano Perché cioccolato al latte di qualità Ricoperto da un guscio di zucchero colorato M&M's Siamo i fans E' la star del cioccolato Intascabile formato M&M's M&M's è delizioso cioccolato al latte che si scioglie in bocca Non in mano Cioccolato e scrocchia La na 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 Trix Trix E' delizioso cioccolato al latte che ricopre una croccante nocciolina tostata Cioccolato e scrocchia Trix Trix reasonably gusto che cioccola e scrocchia. Kinder mio amico presenta la festa di Tenerella. Arrivando rubacuori che per lei raccoglie i fiori, su correte c'è campione e si gioca con il cuore. Gran festa ci sarà, menestrello suona già, insieme noi cantiamo, la 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 la, e felici noi vaghiamo. Kinder mio amico, tanti ovetti di cioccolato Kinder con più latte e meno cacao. Rubacuori, menestrello, tenerella, campione, quattro nuovi amici per giocare. Otello, un manto di raffinato cioccolato extra fondente con il 70% di pregiati cacao, nel cuore una tenera crema, che abbraccia una regale nocciola del Piemonte intera. Otello, ritorna la passione, da Dufour. Scusa, tu quando mangi Kinder Brioche? Io a colazione. E voi? Oh, anche a merenda, Kinder Brioche ha più latte e più proteine. Grazie. Prego. E a scuola? Certo, meglio una Brioche con tanto latte. Visto? I ragazzi preferiscono Kinder Brioche. È lievitata naturale, ha due strati al latte ed è sempre fresca per la sua confezione ermetica. Insomma, è fatta apposta per i ragazzi. Abbiamo detto ragazzi. Kinder Brioche, dalla Ferrero Kinder Division. Buon dì, radio, buon dì. Ciao, ecco gli intramontabili classici dolci. Blu. Sognare, sognare, fino a quasi a levitare. Buon dì vuota, zuccherato. Quel dolce blu, tra un bel libro e la tv. Tra mille emozioni, il più dolce sei. Niente al mondo è più. Buon dì vuota, buon dì vuota. I buon dì motta, solo motta li fa. Dovevi aspettare a buttarti, caro. Vuoi i buffer saiba grandi o tascabili? Buoni! E che cialda, che cialda leggera! Buffer saiba, i buffer leggeri, ora anche tascabili. Quando il risveglio è duro, ci vuole la colazione morbida, Yogo Brioche Ferrero. Il gusto leggero di yogurt e albicocche, per una colazione tutta tenerezza. Per addolcire il tuo risveglio, Yogo Brioche Ferrero. La colazione si fa morbida, morbida Yogo Brioche. Tu gli dai tutto l'amore che sai, quando più ha bisogno di te, perché sicuro lo vuoi nella vita. Tu gli dai per nutrirlo il meglio che sai, perché cresca più forte che mai, i giusti biscotti che hai scelto per lui. Plasmon, tu gli dai, continua così. Coi biscotti Plasmon, si diventa grandi. Plasmon! Visto la novità? Sono i dolcetti delle feste. Proprio come si facevano una volta nei giorni di festa. I ciocchini, con tanti pezzetti di cioccolato, le nocchie, con le buone nocciole tostate, e tanti altri, così ricchi e golosi. Una vera festa. Ritornano i dolcetti più innocenti, i dolcetti delle feste, per darti un po' di festa tutti i giorni. Murino Bianco Piccoli, piccolissimi, anzi, mini, mini oro saiba. Tanti fiocchi di cereali e avena in biscotti, piccoli piccoli. Finalmente la colazione ha un gusto nuovo. Pensati per i ragazzi, pensando alle mamme, i mini oro saiba nutrono la voglia di crescere. Ehi, B, conosci l'ultimo segreto di Big Bubble? La voglio conoscere anch'io. Te lo dico io in un orecchio, o magari in due, eh? L'ultimo segreto di Big Bubble, eh? Banna Cacao, il nuovo bigusto, ancora più grande, ancora più giusto. Alpe, liberi, carezza di latte, ah, ah. Ricetta di una volta, al gusto tipo un latte, molto più di una carezza, alpe, liberi, una bontà, ah, ah. Carezza da sentire, carezza da gustare, carezza tipo un latte, da parte emozionale. Alpe, liberi, carezza di latte, alpe, liberi, al gusto del latte, ah, ah. Caramella Alpen Libe, una carezza al gusto di latte. Alpe, liberi, carezza di latte, ah, ah. Alpe, liberi, carezza di latte. Alpe, liberi, carezza di latte. Alpe, liberi, carezza di latte. Chi non mangia l'agonia, viene tutta la malta mia, per riposta all'osteria. Chi non mangia l'agonia, torna l'oro e l'ostia. Tu è... Vieni sempre alla Coop? Certo, vieni. Dai, forza. C'è tutto e conviene. Papà mi ha spiegato che la Coop sono tanti consumatori insieme che hanno fatto centinaia di supermercati. E questi cosa sono? Sono i prodotti con marchio Coop, vero? Sì, sono 250, sicuri e convenienti. E con un'etichetta che spiega tutto del prodotto. Burro, riso, caffè, farina. C'è tutto. Per tutta la famiglia. E alla Coop, sapete, c'è anche tutto il resto. Allora, ma non mi dovevi dire una cosa? Torniamo ancora alla Coop. Coop, siamo più grandi perché sono più forti i consumatori. Signori l'imperatore, osseguiato dal suo contorno. Donno Napoleon, delicato, squisito in ogni occasione. Qui, Napoleon, il tonno selezionato. Dai mari più profondi, dai mari più pescosi, tonno Maruzzella è più. Sì, tonno Maruzzella è più buono, più gustoso, è più tonno. Tonno Maruzzella è più appetitoso con le verdure, è più gustoso con il primo. Tonno Maruzzella è più pietanza. Tonno Maruzzella è più buono. Lo facciamo qui in Veneto. E a noi piace il buon pesce. Tonno Maruzzella è più. Mare aperti, incontaminati, che lambiscono isole di sogno. A quei caldi e cristallini, dove la vita da sempre pulsa in una magia di forme e di colore. Questi sono i mari lontani che il tonno predilige. Ed è qui che ci spingiamo alla ricerca dei tonni migliori. Perché solo i tonni migliori diventano Rio Mare, il tonno così tenero che si taglia con un grissino. Eccoli finalmente i tonni più pregiati, quelli con la pinna gialla. La loro parte è più colibata, è il trancio di filetto. Rosa, gustoso, tenero. E quando è così tenero che si taglia con un grissino, è tonno Rio Mare. Il tonno piace perché è sano, nutriente, naturale. Il tonno piace perché lo puoi preparare in mille modi, d'estate o d'inverno, sempre. Il tonno piace, è il tonno che piace di più, è il tonno tenero, così tenero che si taglia con un grissino. Rio Mare, così tenero. Amici della natura, vi ricordo che anche quest'anno Golia Bianca rinnova il suo impegno a favore degli orsi bianchi. In questi anni Golia Bianca e il WWF hanno fatto molto per proteggere l'Artico. Ma con il vostro aiuto possiamo fare ancora di più. È facile, basta scegliere Golia Bianca, il tenero confetto ripieno di freschezza. Golia Bianca Tenero confetto ripieno di freschezza, voglia di freschezza, voglia di tenerezza. Golia Bianca Signora, la macchina è pronta, quando desidera. Grazie Ambrogio, ma prima avrei un leggero languorino. Vado in cucina a prenderle qualcosa? No, la mia non è proprio fame. È più voglia di qualcosa di buono, vero signora? Sì, di un Ferrero Rocher. Chissà come ti vengono certe buone idee. Ferrero Rocher soddisfa la voglia di buono. Sì, di un Ferrero Rocher soddisfa la voglia di freschezza, voglia di freschezza, voglia di freschezza, voglia di freschezza. Sì, di un Ferrero Rocher soddisfa la voglia di freschezza. Sì, di un Ferrero Rocher soddisfa la voglia di freschezza.